Un consorzio che raggruppa 60 aziende della Nautica e che, posso dirlo, ha l'orgoglio di aver iniziato questa avventura 5 anni fa dello Yacht Mad Festival, un tentativo timido solo delle nostre aziende che, come è sotto gli occhi di tutti, è cresciuto perché abbiamo creduto in quell'evento, abbiamo creduto nel progetto di fare sistema, quindi enti, istituzioni e imprese insieme per un progetto che accompagna l'economia di questo territorio. L'economia di questo territorio sappiamo tutti che ha una grossa base fondata nell'acqua e quindi nel mare, abbiamo cominciato a parlare di Blue Economy, di Economia del Mare 5 anni fa, perché crediamo fortemente non solo in una rappresentazione nautica dove esponiamo i nostri prodotti, ma crediamo nella forte espressione del territorio, nel senso più ampio, quindi del turismo, della parte agroalimentare, e no gastronomica e quindi accanto a noi in tutti gli eventi, in tutte le manifestazioni, quando andiamo a Roma in fiera, dove al Big Blue siamo presenti in un unico padiglione come nautica laziale, portiamo sempre con noi una testimonianza delle nostre belle isole, Ponza e Ventotene, le prologo con il turismo, offriamo degustazioni di prodotti tipici del territorio ai nostri ospiti, è questo per fare gruppo, per fare sistema e credo che Yacht Med Festival sia l'esempio di questo macrocosmo che abbiamo creato.